I miei organi superiori, tipo Calderoli, lui è lui, Calderoli, ho avvisato i miei organi superiori. Per proposito di movimento e organi superiori, dopo i fatti di Alzano, il movimento ti aveva in qualche maniera richiamato, ad esempio, Velotte, adesso che sei un pezzo grosso, occhio con chi ti relazioni, occhio quando ti esprudono. Dopo i fatti di Alzano, anche io ho avuto la mia lavata di testa, proprio per questo ruolo di mediazione che aveva portato qualcosa. Non è stato trasferito qua, non è certo, non è stato scritto, perché io non ho stuoi poteri. Uno a uno, insomma, uno a uno. Io ho fatto delle dichiarazioni, forse a te per primo, o a te o al tuo collega, che è il tuo collega, Marco Fremonese. Proprio a caldo, cinque minuti dopo, prima ancora di aver parlato con Calderoli, con Maroni, del momento dove mi hanno fatto lo shampoo. Il contempo dopo, il primo che avevo sentito è stato Figone là e Cremonese. A cui ho dichiarato, no, basta, con la curva ho tagliato i ponti, perché così siamo arrivati a troppo. Quindi ancora prima, poi, c'è stata l'aggiunta dello shampoo.